La strada elettrica sta creando scompiglio ora nel nostro studio. Ma io non sono uno di quegli stolti che leggono il gobbo come dei decerebrati. Errore 4012 backslash reset colore disco C. Si sta spegnendo. Che cacchio è stato? Sarà un pezzo di schifezza spaziale americana caduta fuori dall'orbita. Vi ricordate quando ero io a fare le schifezze e io no? Papino, credo che ci sia qualcuno di sotto. Rilassati, Maggio. Probabilmente è solo Homer che torna tardi da boh. Gli occhi di questo quadro mi inseguono. È uno specchio. Tutta la grande arte non è un po' uno specchio? È meglio mandare giù il cane. Avanti, è la tua occasione per proteggerci, bello. Andiamo! Stupido cane! Gli tendiamo una Bart trappola. Tu sei l'esca. A posto. Quando lui comincia a morderti, io lo colpisco con questa scopa. Non bere le mie amate! Ammordimi il sedere lucido di metallo! Un robot con la battuta pronta! Ehi, Homer, lo baci o lo uccidi? E vai, punching bimbo! Ok, che cosa sei tu? Sarà un progetto segreto del governo. Oh, vi sembro uno della narcotici? Mi chiamo Bender e io vengo dal futuro. Dimostralo. Che succede a Homer Simpson nel futuro? Non lo so. Muori? Oh, mio Dio. Sta dicendo la verità. Devo portarti dai nostri capi cittadini.